Chi tra voi condivideva l'abbonamento Netflix? Io sicuramente sì. E a quanti di voi è arrivato l'avviso che non si potrà più fare? Beh, sicuramente a me. Ciao, sono Daniele per gli amici Subri e oggi voglio darvi delle alternative per guardare film, serie tv, documentari e tanto altro in maniera completamente gratuita e soprattutto legale. Prima di continuare con il contenuto, di conseguenza prendere un po' di popcorn e guardarvi comodamente un film sul divano, ricordatevi di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati su tutti i contenuti che faccio uscire ogni giorno che parlano di come comprare, vendere, guadagnare e risparmiare online. Chi mi segue sugli altri social sa che sono stato un bel po' in giro per l'Italia e che cosa faccio quando torno e voglio un po' di relax? Accendo il mio schermone in camera, attacco la Fire Stick e mi metto a vedere Netflix, Disney Plus e Amazon Prime Video. Il problema è stato che Netflix, appena l'ho acceso, mi ha detto «Ehi, sei sicuro di essere nel tuo nucleo familiare? Perché non mi sembra» e in effetti no che non lo sono, nel senso l'account di mio fratello me lo faceva usare senza chiedermi assolutamente nulla perché allo stesso tempo io gli facevo usare il mio account Disney Plus senza chiedergli assolutamente nulla. Quindi condividevamo due account a vicenda. Il problema è che Netflix ci ha beccato e non mi permette più di visionare la piattaforma sulla televisione quindi che si fa? Il problema è che ho scoperto che anche Disney Plus sta adottando questa tecnica o meglio l'adotterà l'anno prossimo proprio per evitare la condivisione dell'account quindi anche mio fratello non potrà più usufruire del mio account Disney Plus. Telegram come siti pirata o altre soluzioni possono garantire la visione di film e serie tv anche recenti però per l'appunto sono soluzioni illegali. Io invece in questo video voglio solo proporvi soluzioni legali gratuite che certo potranno avere dei compromessi in mezzo come ad esempio la visione di pubblicità all'inizio durante o alla fine oppure magari una qualità non eccessa però allo stesso tempo si risparmierà sull'abbonamento di Netflix e Disney Plus aggiungendo appunto questi piccoli compromessi che secondo me non intaccano più di tanto la visione del contenuto. Il primo portale che permette di vedere film, serie tv e anche documentari in streaming da me più apprezzato è sicuramente Pluto TV. Si può usufruire di questo servizio dallo smartphone grazie all'app sul proprio pc fisso o portatile ma anche tramite smart tv o chiavette proprio come la Fire Stick. C'è la possibilità di vedere qualsiasi tipo di programma in diretta oppure andare a riprendere tutto on demand ed il catalogo è veramente vasto. Ritengo che su questo portale le pubblicità non siano poi così invasive e il bello è che si può fare tutto gratis e senza registrazione basta accedere al sito scaricare l'applicazione e iniziare a vedere il contenuto. Il secondo portale che permette di vedere serie tv gratis in streaming è sicuramente Serialy. Non so magari più veterani di voi se lo ricorderanno è stato anche uno sponsor del canale e io tuttora lo uso permette di vedere serie tv tradotte in italiano e anche alcune in lingua straniera. Quando ve ne avevo parlato io era totalmente gratuito e nel mezzo potevano passare determinate pubblicità. Adesso hanno introdotto anche la versione premium che permette di schippare in automatico tutte le pubblicità quindi se volete pagate qualcosa per non avere le pubblicità però secondo me non ha senso piattaforma validissima. Il terzo portale che permette di vedere film serie tv televisioni in diretta e documentari del tutto simile a Pluto tv si chiama Widow tv. Per me una nuova scoperta che ho fatto poco tempo fa e l'ho utilizzata sul pc portatile ma anche sul fisso scoprendo infine che c'è la possibilità di scaricare anche l'applicazione. Tramite questo portale si possono anche vedere degli sport ma sono tutti documentari secondo me però inseriranno anche degli sport che si potranno vedere direttamente live. La piattaforma per adesso può essere utilizzata in italiano inglese e tedesco e proprio come Pluto tv non necessita di alcuna registrazione. Troppo bello per essere vero? No semplicemente anche qui ci saranno le pubblicità. Il quarto portale che voglio inserire in questa lista che permette di vedere film in streaming è Popcorn tv di cui non vi ho mai parlato. Questo sito ha una sezione chiamata guarda streaming dedicata proprio ai film visionabili in maniera gratuita e totalmente legale con addirittura le valutazioni degli utenti che ci fanno rendere conto prima se effettivamente un film può valerne la pena oppure no. Su questa piattaforma si potranno anche incontrare contenuti a pagamento ma è veramente facilissimo localizzare solo quelli gratuiti grazie all'apposito switch. Consiglio questo portale solo per i film perché onestamente io di serie tv gratis qua sopra non ne ho trovate. Il quinto portale che non può mai mancare e io uso spessissimo per vedere anche film e serie tv oltre la tv in diretta è Mediaset Infinity. Di questo portale c'è anche la versione a pagamento che si chiama Infinity Plus ma per adesso tralasciamola proprio e concentriamoci solo su quella gratuita. Logicamente in questa piattaforma si troveranno solo ed esclusivamente contenuti in italiano ed il bello è che anche gli amanti dello sport non rimarranno sicuramente delusi. In più vi ricordo che il gruppo Mediaset si sta espandendo in ogni dove quindi secondo me introdurranno sempre più canali sempre più contenuti e questa piattaforma potrebbe diventare una vera chicca assolutamente da salvare. Il sesto portale per vedere film e serie tv ma anche lo sport in streaming è Samsung TV Plus che so però non essere adatta a tutti. Come avrete intuito anche dal nome si tratta di un'applicazione installabile su televisori o smartphone ma anche tablet della marca Samsung e permette di vedere tantissimi contenuti totalmente gratis come film serie tv documentari e anche eventi sportivi. Ci sarà oltretutto la possibilità di guardare anche alcuni canali tv live ed è proprio per questo che la ritengo un'applicazione veramente completa e ben fatta. Unica prerogativa avere un dispositivo Samsung su cui guardarla. Il settimo portale per vedere film gratis in streaming è sicuramente Cili di cui vi ho parlato proprio la prima volta che ho iniziato a trattare queste alternative gratuite per vedere tutti i contenuti online gratis in maniera legale e proprio questa piattaforma qua permette di vedere film previa registrazione in maniera totalmente gratuita nonostante in genere sia a pagamento. La cosa essenziale da fare però all'inizio è andare nella sezione apposita dove ci saranno tutti i contenuti gratuiti e da qui si potranno visionare tantissimi film anche non troppo datati con all'interno delle pubblicità. Come detto in precedenza all'interno del sito ci saranno tantissimi contenuti a pagamento quindi questa si può considerare una piattaforma un po' ibrida non totalmente gratis e non totalmente a pagamento. Vi ricordo però che c'è anche l'applicazione scaricabile ed installabile gratuitamente. L'ottavo portale molto forte nel dare contenuti gratuiti in streaming è sicuramente Rakuten TV. Anche qui stiamo parlando di un sito ibrido ci saranno un sacco di contenuti a pagamento ma se vorrete visionare solo ed esclusivamente quelli gratuiti dovrete andare nella sezione gratis per vedere un sacco di contenuti totalmente gratuiti con all'interno delle pubblicità ed anche qui bisognerà prima registrarsi per poi iniziare a vedere i film. In questo caso la potenza della piattaforma si può notare anche dai contenuti completamente originali. Quali altre piattaforma offre contenuti originali eppure gratis? Oltretutto di genere ce ne sono veramente tantissimi c'è da perdersi. Il nono sito che vi permetterà di vedere film e serie tv completamente gratis e in italiano è sicuramente RaiPlay che non posso tralasciare. Lo so non è proprio il massimo io personalmente non lo amo e non lo utilizzo molto soprattutto per le serie tv che non mi interessano ma alcuni film in effetti sono interessanti. Premetto che è gratuito anche per chi non paga il canone tv come me ma chissà se in futuro le cose cambieranno. Anche in questo caso oltre al classico sito web si potrà usufruire di RaiPlay tramite applicazione disponibile per Android e iOS. Il decimo ed ultimo sito che vi permetterà di vedere film gratis in italiano in streaming in maniera legale potrà sembrarvi strano anzi stranissimo ma si tratta proprio di YouTube. Non dappertutto però si possono vedere contenuti in maniera legale perché ci sono tanti che cercano di caricare film illegalmente e YouTube puntualmente arriva e li butta giù ma ci sono ad esempio due canali come Videa e Film Eclipse Ita di Vinerva che hanno deciso di caricare i film da loro prodotti direttamente gratuiti per tutti. Secondo me un'ottima alternativa per vedere dei film gratis su un player come YouTube. Spero di avervi fatto conoscere nuove piattaforme per poter vedere un sacco di bei contenuti gratis legalmente in streaming online ma voi utilizzate altre piattaforme per vedere contenuti in streaming? Se si iscrivete mele nei commenti che sicuramente potrebbero essere utili a tutta la community. Grazie a tutti. Grazie a tutti.